Un ospite che sta in questo momento facendo una trasmissione a Phoenix in Arizona alla radio K-Light 98.7 FM il suo nome è Perry Damone cioè Perry Damone vi dico subito chi è Perry Damone è il figlio di Vic Damone infatti il suo vero nome è Perry Farinola ed è il figlio di Anna Maria Pierangeli e ho il piacere di averlo con noi questa sera Ciao Perry Ciao Giuliano come stai? Molto bene Buonasera Buonasera anche a voi buongiorno Un momento Giuliano perché in un momento devo parlare al radio Allora ti ascolto Grazie Prego Ciao Ciao Bellissima la presentazione che tu hai fatto Allora io sono preparato Ah un momento Oggi è il giorno della mamma It's Mother Day E allora facciamo un augurio a tutte le mamme E tu mi permetti prima di iniziare a parlare Di fare ascoltare Dedicare una canzone a tutte le mamme in ascolto And the evening shadows fall E un giorno amico è lì Bene, rimettiamoci in collegamento con K-Lite, la stazione di Phoenix, Arizona e con Perry Damone. Ciao Perry! Ciao Giuliano! Allora, prima di tutto dimmi, come mai parli così bene italiano? Non lo so! Tu hai vissuto anche in Italia? Quanti anni hai vissuto in Italia? Dieci. Dieci anni? A Roma. A Roma? Sì. Bene, dimmi un po', cosa ti ricordi della mamma, Anna Maria Pierangelo, un'attrice che noi tutti amiamo tuttora e che guardiamo quando ci capita di vedere il film, sempre con grande ammirazione? Dice che forse direbbe meglio quello che pensa dicendolo in inglese. Sì, è un giorno molto difficile per me. Dice che questo è un brutto giorno per lui perché a sua mamma gli manca molto. Sì, sì, sì. E lei sempre era così... Era come un ciclone. Era un ciclone sua madre, dice. Sì, è una piccola donna, piccola, 5 foot 1. Era molto piccola di statura, 1 metro e 52, ma aveva molta energia. Ah, sì, sì, sì. Ma sì, mi manca tantissimo, è un vero peccato. Sì, lo credo proprio. Tuo papà, invece, è un grande cantante che noi abbiamo avuto il piacere di vedere in tanti film musicali, musicali della Metro-Goldwyn-Mayer, come Ricca, Giovane e Bella, con Jane Powell. Athena, dove lui cantava Venezia, me lo ricordo ancora. Con Debbie Reynolds. Debbie Reynolds, sì. Jane Powell. Sì, e poi c'era Edmund Perdom. Tu lo sai che Edmund Perdom è diventato un nostro amico, lo abbiamo avuto ospite qui a parlare di Mario Lanza. Ah, sì? Sì, perché lui abita a Roma, Edmund Perdom, ed è lui che ha girato il film Il Principe Studente. Al posto di Mario Lanza. Mario Lanza cantava, ma lui invece faceva l'attore, cioè interpretava le canzoni di Mario Lanza e Mario Lanza le cantava. E sì, abbiamo avuto il piacere di averlo qui. Poi, tu papà ha girato Hit the Deck, cioè era tutto in coperta, con Jane Powell, anche quello con Tony Martin, e la famosa ballerina Anne Miller, che è scomparsa poco tempo fa. Walter Pidgeon. Sì, Walter Pidgeon, esatto, sì. E poi è Kismet, anche quello con Howard Keel e Anne Blythe, dove tuo papà cantava la famosa canzone Strangers in Paradise. Sì, Strangers in Paradise, An Affair to Remember. An Affair to Remember. An Affair to Remember, la mia canzone preferita di tuo papà, che ora ascoltiamo immediatamente. Mi permetti? Sì, 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 per piacere, sì. Che bella canzone. Stiamo ascoltando intanto K-Lite, la stazione radiofonica di Phoenix in Arizona. 40 gradi oggi ci sono a Phoenix in Arizona. 40 gradi, però tempo secco, e allora a un certo punto anche il caldo non è che faccia molto male. Ecco, eccomi ancora, abbiamo sentito, ho detto che ci sono circa 40 gradi, 101 oggi a Phoenix in Arizona, circa 40 gradi Celsius, e naturalmente però il tempo è molto secco, no? Si sta bene. Sì, è molto secco, ma è molto caldo, eh? Molto caldo, immagino. E lì, che è, guarda, 64 oggi? Quanto? Che è? Abbiamo, no, io credo, sui 12-13 gradi, penso, ma oggi pioveva però. Ah! E' piovuto, eh, vabbè. Cosa vuoi farci? Un po' di pioggia tutti i giorni abbiamo. Vogliamo un po' di pioggia qui. Pioggia la vuoi anche? Sì, sì. Ascolta, ascolta, voglio chiedere una cosa. Papà, parlami un pochino di tuo papà, Vic Damone. Ha detto che se voglio sapere cosa fa suo papà e voglio scrivergli, posso andare sul computer, trovo l'indirizzo di suo papà e naturalmente posso sapere cosa sono le sue novità. Sì, vicdamone.com Vic Damone.com Va bene, gli scriverò e dirò che ti conosco, che sono tuo amico, così speriamo che mi risponda. Sì, sì, risponda, risponda. He's retired. Dice che ha smesso di cantare. But he's thinking of coming back. Ma pensa di tornare. Io ho avuto occasione di vederlo, sai? Tuo papà, in uno spettacolo stupendo al Michael's Pub di New York. Ah sì? Sì, sì, sì. Un bellissimo spettacolo. But he's thinking of coming back. Pensa di tornare a cantare, farebbe bene. E c'è un nuovo disco suo fuori. E sono canzoni d'amore interpretate da Vic Damone. E poi ne parleremo, me lo farai avere questo disco, eventualmente. Oppure lo trovo. No, no, I'll send you a couple. Ha detto che me lo manda. Bene, volevo chiederti una cosa, Perry. Tu non canti o canti? Io canto ma only at karaoke. Ah, fai karaoke solamente. Solamente. E beh, scusa, tua mamma cantava perché ha inciso un LP. Tuo papà è famoso cantante. E dovresti cantare anche tu. Penso che da questo duetto, chiamiamolo così, sia venuto fuori un figlio canterino, no? I have often walked down the street before. Ah beh, una bellissima voce, complimenti. Oh, grazie. Adesso ti faccio cantare tutto, my fair lady, così siamo a posto, eh? Senti, io so che tu sei amico di una mia amica, Jackie Basco di Las Vegas. Io vedo Jackie Basco in Las Vegas questa settimana. Le porti i miei saluti. Grazie. Un bacione da parte mia. E poi voglio dire che tu oltretutto sei anche un produttore perché mi hai mandato dei dischi di alcuni cantanti della tua scuderia molto bravi. Il primo che vorrei presentare si chiama El Raitano. C'è un cantante italiano che si chiama Raitano qui in Italia, lo sai? Sì, tutti i cantanti che io ho mandato sono tutti italiani. Sì, 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 no, ma c'è un cantante minoreitano. Questo si chiama Raitano, quello che c'è qui famoso in Italia. E Giuliano, El ha vinto NBC Television's most talented senior. Dice che ha vinto un premio della NBC come il personaggio con più talento. Io ho ascoltato questi dischi che mi ha mandato Perry Damone e devo dire che El Raitano è molto bravo e canta delle canzoni che finalmente stiamo ritornando al bellissimo swing. Infatti canta I'm Glad There Is You, famosa canzone questa qui. Ne ha fatto una versione stupenda Peggy Lee e naturalmente anche Frank Sinatra. My One and Only Love, Sending the Clowns. Però io tra quelle canzoni che ho ascoltato ne ho trovato una veramente eccezionale che è il famoso brano. At last. È bravo. Sono bravo anch'io. Ma sai, io ogni tanto la butto, così spero che qualcuno mi dica. Però perché non vieni a cantare da noi? Ma nessuno mi ha ancora invitato. Vieni qui, canta con me. Va bene. Allora, senti, El Raitano. Parlami un pochino di El Raitano. El Raitano, io conosco El per dieci anni. E' bravo. E' un cantante che io mi piace molto. L'abbiamo portato nella nostra scuderia che è la Damone Management Group, gruppo direttivo di cantanti, di questi cantanti appunto. E abbiamo portato El Raitano da noi. E stiamo lavorando anche per fargli fare un tour in Europa. Con molti di... Sì, mio italiano, eh? No, va benissimo. A lot of our acts that we want to bring through London, France and Italy. E ad esempio altri cantanti che noi vogliamo portare in Francia e in Italia. In Inghilterra, Francia e in Italia. E Svizzera. E Svizzera, ah benissimo, benissimo. Così ti voglio qui in trasmissione, così in persona, live qui da me. Sì, sì. Bene, allora senti, intanto tu stai in linea perché penso che tu debba parlare anche nella tua trasmissione. Tu che genere fai di canzoni? Che cosa trasmetti? Ah, le canzoni di successo contemporanee, però standard, cioè dei motivi di grande successo. Sì, è un po' moderno. Perfetto. Allora invece io sono un pochino antico. Ci ascoltiamo. No, 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 mi piace la tua trasmissione. Ti ringrazio, ti ringrazio. E allora intanto ci ascoltiamo At Last con El Reitano. Abbiamo ascoltato At Last, la voce era quella di El Reitano, che ascolteremo più tardi con un altro brano. E con noi questa sera Perry Damone, il figlio di Vec Damone e di Anna Maria Pierangeli. Abbiamo il piacere di averlo qui con noi questa sera da Phoenix, Arizona. E bravo, eh, Aureitano? Molto bravo, molto bravo. Che voce! Molto, bella voce, sì. Infatti ci ascolteremo un altro brano dopo, che è un brano che a me piace particolarmente, tratto da una colonna di un film, Ruby, si chiama. Però intanto vorrei parlarti di un altro cantante tuo, che vorrei che tu mi parlassi di lui, anzi. Io ho scelto London by Night, una bellissima canzone. Il suo nome è George Bugatti, anche lui di origine italiana. George Bugatti, lui ha un show at El Bellagio in Las Vegas. Ah, il famoso albergo Bellagio di Las Vegas, è un bellissimo albergo. Di fronte ci sono le fontane danzanti, chiamate così. C'è un lago, che è il lago di Como, fatto, l'hanno fabbricato, una specie di lago di Como, sulla strada principale di Las Vegas. E ci sono delle fontane, si sente la musica e queste fontane ballano al suono della musica. E questo è l'hotel Bellagio di Las Vegas. E George Bugatti è il cantante favorito di Tony Bennett. Ah, ho capito, di Tony Bennett. E lui canta lì al Bellagio Hotel di Las Vegas. Sì. Come hai conosciuto George Bugatti? It was introduced to me by Jackie Basco. Ah, mi è stato presentato dalla comune amica Jackie Basco di Las Vegas, che mi ha procurato tantissime interviste. Jackie Basco, infatti ho avuto occasione di intervistare Paul Anka, Ingebert Humperdinck, poi dopo Frank Sinatra, Frank Sinatra Jr. E mi ricordo che si è portato al Marriott Hotel di Palm Springs, dove c'era Sinatra, c'era Gregory Peck. Insomma, abbiamo passato delle serate magnifiche con Jackie Basco. Sì, sì, sì. Sì. E fammi sentire un altro pezzettino della tua radio. Ah, vuoi sentire un pezzettino della mia radio? Sì, certo. Ah, sì, un momento. Sono gli eagles. Eagles, una di queste notte. Oh, my Italian is so bad. No, no, il tuo italiano va bene. Quando hai iniziato è stato stupendo. Ah, grazie, ma sì, sì. Io lo so, la pasta asciutta. Sì. Ciao, grazie. No, no, stai parlando bene italiano. Dimmi, ma ogni tanto torni in Italia. Sì, sì. Io voglio ritornare. Una settimana in Italia io penso che ritorna. E a Lugano non sei mai venuto? No. Eh, dovresti venirci. Oltretutto se vieni in Italia, vieni a Milano, sei a due passi da Lugano. Ah, sì? E ci troviamo, ti porto qui, ti porto a Lugano, ti porto a visitare la città, la radio. Lugano è una città stupenda. C'è un lago, ci sono delle persone meravigliose. È una città da vedere, da visitare. E grazie per l'invitazione, eh? Sì, certamente. Intanto ci ascoltiamo, allora, George Bugatti in London by night. Ho ascoltato London by night con la voce di George Bugatti e con noi questa sera Perry Damone. Perry, bellissima anche questa canzone, London by night. Ed ora io vorrei fare ascoltare Al Raitano in Ruby. Ruby, il famoso film con Jennifer Jones, era Ruby, fiore selvaggio. Questo era il titolo italiano di questo film. Ed è una bellissima canzone che è stata cantata anche da Ray Charles. Se non sbaglio, vero? No, non sbaglio. You're right on it. You got it. Sì, sì, è vero, è di Ruby. Ruby era stata cantata anche da, appunto, una bellissima versione di Ray Charles. Di Al Raitano. Al Raitano, adesso stanno incidendo molti dischi? Stai facendo qualcosa con loro? Come è? Sì, sì. Siamo impostando una piccola tour qui negli Stati Uniti. per Al Raitano. Facciamo un piccolo tour negli Stati Uniti per Al Raitano. E poi spero di prendere Al con noi con noi prossimo anno. Ha un grande seguimento qui. Dice che è molto amato negli Stati Uniti al Raitano e spero così di portarlo anche all'estero perché è veramente un cantante di grande successo. Ecco allora... Dice che ha molta energia e non riesco a stargli dietro. Ascoltiamo allora dalla voce di Al Raitano, Ruby. Al Raitano con Ruby. Bellissimo anche questo brano, sì, molto bello. Adesso ci ascoltiamo un altro brano di George Bugatti. Avrei scelto But Beautiful, che è una famosa canzone. Questa è scritta da Burke Van Yusen. Bellissimo, un bellissimo brano che abbiamo sentito interpretato anche da altri. Insomma, è uno standard. Vorrei dire a Perry Damone, che è con noi questa sera, che se qualche ascoltatore della tua radio poi volesse ascoltare la radio svizzera, può fare su internet www.rtsi.ch la nostra emittente trasmette sia via internet che via satellite. Pronto? È globale. È globale, certo. Certo, certo. Bravo, tu hai un show, io mi piace il tuo show. Ti piace, ti ringrazio. Sì, sì. Mi piace anche a me farlo perché lo sento molto, poi sono parecchi anni che lo faccio. Senti, adesso c'è George Bugatti che canta But Beautiful. Lo ascoltiamo immediatamente. Intanto, vuoi raccontarmi un pochino anche della tua vita? Come hai iniziato tu questo lavoro? Io sono stato con una stazione qui in Phoenix per 15 anni. Una compagnia ha comprato questa stazione e hanno messo un altro posto tu. Una voce di un altro parto. Un'altra persona. Io ho fatto una decisione di cominciare una compagnia, Damone Management Group, qui in Phoenix, per aiutare artisti, comedians. Abbiamo 49 artisti, abbiamo cercato i comici, quelli che intrattengono il pubblico, i cantanti. Adesso vogliamo aiutare questa gente ad avere successo. Sì, sì. And we also have Buddy Greco. Abbiamo anche Buddy Greco. Ah, Buddy Greco. Lo conosco, è un grande cantante Buddy Greco, sì? Sì, sì, sì. Ho parecchi dischi suoi di Buddy Greco. Sì. Molto bravo, sì. Grazie. Eh no, grazie a lui che ha inciso questi dischi, così io li posso avere. Sì, adesso io devo parlare. Sì. Un momento. Fammi sentire. Ah, un momento. Again a big hello to Giuliano and everybody listening at Radio Svizzera Italiana. Grazie. From masterpieces and sculptures to artifacts and animals, our valley museums have something for everyone and during May you can take it all in at a discount. Just simply pick up your culture passport at any Valley Robinson's May right now and get into 41 museums. So get your culture passport today. All right, let's kick off another long set of light rock hits of yesterday and today. It's all commercial free with Fleetwood Mac. Perry Damone like what it became like 98.7 Ecco. È bellissimo. Hai anche la sigla con il tuo nome, Perry Damone. Bellissimo. Ah sì. Well, you know you made it when you get your own jingle, right? Adesso chiederò anche io di fare un jingle col mio nome. Vediamo se me lo fanno. Bene, allora ascoltiamo But Beautiful con George Bugatti But Beautiful con la voce di George Bugatti e con noi questa sera Perry Damone. Perry, io vorrei chiederti di un altro personaggio che tu hai nella tua scuderia, Monti Procopio. Un altro ragazzino italiano. Ah, ma si chiama proprio Monti Procopio? Monti Procopio. e Monti è open per Vicky Carr, Phyllis Diller, Alan King. Dice che lui di solito apre, cioè fa la prima parte degli spettacoli dei grandi cantanti come Vicky Carr, Phyllis Diller ed altri. E naturalmente... Sì, un altro ciclone. Un altro ciclone, dice, perché è molto bravo anche lui e io ho scelto tra le canzoni che canta Monti Procopio il famoso brano di Alan Mercer che è stato lanciato tanti anni fa da Fred Astaire. One for my baby. È la storia di una persona, di un loser come si suol dire, una persona che ha perso la sua donna. Allora va al bar e dice dammi da bere una bevuta per me e una per farmi andare a casa. E dice che è molto bello perché bisogna ascoltare il sax di questo brano, no? L'altro sax di You Love Day, Love Lady, cioè, è lui perché ce ne sono altri sax qui. Tenor saxophone, Brian Ruth, tenor saxophone, Brad Butter. Beh, ascoltiamo allora questo bellissimo brano che è One for my baby con la voce di Monte Procopio in così, un personaggio presentato da Perry Damone. Bravo! A qualche istante termina la prima parte di Broadway Hollywood Las Vegas e vorrei salutare l'amico Perry Damone facendo ascoltare in sottofondo una piccola trasmissione, una piccola parte di una trasmissione che poi le farò avere completamente, di sua mamma quando lei cantava in una trasmissione televisiva italiana. Ah. Ecco tua mamma. Ah. Adesso la sentirà. Era venuta lo stesso perché ho saputo che il musichiere per un'attrice era per il musichiere. Ah sì? Eh. Siamo molto conosciuti all'estero, insomma, no? Lei è rinomato come il più grande rompiscatole del mondo, non lo sai? Io. Me l'hanno fatto dire? Sì. Ma lo volevo dire io. Vabbè, lasciamo da parte questi complimenti e a lei è perfettamente inutile fare dei complimenti perché noi italiani la seguiamo nella sua carriera luminissima. Da mamma. Da mamma, sì, certamente. Eh, grazie Giuliano, eh. Senti, io ti ringrazio tanto per essere stato con noi questa sera. Giuliano? Dimmi. Io c'ho un numero per informazione di tutti. For all the artists, if anybody needs to get a hold of us, can we give out a number? Puoi dare questo numero se qualcuno vuole mettersi in contatto con te, certamente. 480 480 816 816 816 816 0892 Sì. Prima però bisogna fare 001 per gli Stati Uniti. Sì. Certamente. Benissimo allora. Perry Damone è stato con noi questa sera. Io non so come ringraziarti. È stato molto bello parlare con te. Vieni a Phoenix. Certo, certo che vengo a Phoenix. Teniamoci in contatto perché avremo la possibilità così di far ascoltare cose nuove, altre curiosità e magari non lo so se hai tuo papà che passa da quelle parti sarei molto felice di averlo in trasmissione. Grazie Giuliano. Ciao, grazie a te. A tutti. Buon giorno di mamma. Grazie. Ciao Perry. Ciao Giuliano. Ciao.